Amici del campionato di Bresing italiano oggi abbiamo un grande ospite, è diventato da poco il campione di coppia insieme a Taurus, lui è Hector il Panzero. Buon amico, questo è Hector il Panzero e non c'è più da mangiare quindi. Oggi però è stata una brutta giornata perché insieme a Mano Le Gringo si è uscito un po' dolorante contro gli Spaghetti Storm Style, ci vuoi parlare un po' del tuo incontro? Beh sì, allora era da un po' che volevo sfidare Big Ciao soprattutto dopo la nostra rivalità a tavola e abbiamo tentato tutto per tutto per andare avanti nel torneo dei Dual Force. Purtroppo la nostra amica da sopra Fortuna non è stata nella nostra parte per oggi. Cosa che non è successa con Taurus che avete sconfitto la casta e come già sappiamo settimana prossima avrete ancora a che fare con loro. Siamo la casta contro MrExcellent e Riot, speriamo ancora di riuscire a batteri e ritenere i nostri titoli dei campiones di pareja. Vediamo ogni tanto qualche clip con Taurus che a socializzare con lui è un po' dura. È un po' dura perché lui è alto, è bello gordo e non si distraghe a queste cose, ce lo pensarebbe. Allora noi saremo presenti anche a Fight Forever e ti auguriamo buona fortuna. Grazie amica. Grazie a te. Grazie amico. Vamos! Grazie a tutti.